Omissione in atti d'ufficio e abuso di potere, questi reati ipotizzati dai 14 consiglieri comunali di Modugno che tre giorni fa si sono dimessi davanti al notaio nell'esposto che presenteranno questa mattina in procura. Sotto accusa la delibera di giunta del 10 giugno nella quale si affidava l'incarico al dirigente per far predisporre un nuovo piano regolatore che ha dato il via ai contrasti tra il sindaco, l'ex PM Nicola Magrone e la sua maggioranza fino ad arrivare due giorni fa al commissariamento. Abbiamo ritenuto di liberare Modugno da una dittatura. Sono parole del consigliere Massimo Angiulli eletto nella lista Italia Giusta del sindaco. La cosa più grave replica all'ormai ex sindaco che le dimissioni collettive arrivino due giorni prima del consiglio comunale monotematico sull'urbanistica. Per evitare che di questo si discutesse e si legalizzasse il sistema urbanistico a Modugno hanno fatto saltare tutto, saltando anche facendo esplodere anche il consiglio. È chiaro che adesso hanno un altro compito però, io lo capisco e sono un po' impaurito. Io temo molto che l'escalation aumenterà. Lo dico a lei perché lo sappiano tutti che la mia previsione è che l'escalation rischia di diventare sanguinaria. Tra i modugnesi alle prese con una nuova crisi ad un anno dalle elezioni regna lo sconforto. Cosa pensa di quello che sta succedendo a Modugno, le dimissioni? Schifo, veramente. Avevamo trovato forse una persona giusta ma il popolo non ha saputo riconoscerlo. Pare che il sindaco Magrone volesse dare legalità a questo paese ma molto probabilmente i poteri forti hanno deciso così.